La musica è nelle mie vene. Io diventerò un musicista! Mi sono molto divertita perché è stata un'esperienza che non conoscevo. I musicisti sono egoisti e inaffidabili. Niente più musica, obbedirai alla famiglia. Niente musica! Di mamma Coco cosa c'è in me nel film? L'età, non siamo tanto lontani, è una donna sentimentale che ricorda con grande affetto tutta la sua famiglia precedente a chi è questo nipotino che ama molto. Bentornati! Qualcosa da dichiarare? Effettivamente sì! E qui tu lo riconosci, quindi è papà! 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 Esatto! Papà! Un po' triste o no? No, è felice! Sì, questo è papà! Papà! Don, ti aspettami! Devi starmi vicino, bello! Non sappiamo dove ci troviamo! Il rapporto tra mamma Coco e Miguel è molto piacevole perché lui è molto affezionato a questa nonna. Io con i miei nipoti ho un buon rapporto, sono molto piacevoli, divertenti. Non abbiamo tantissimo tempo da stare insieme ma quello che possiamo fare insieme lo facciamo molto volentieri. Che c'è che non va? Più lenta però. Che c'è che non va? È difficile, sembra facile, ma è un'altra roba. È sì. Ragazzi, vi aspetto tutti dal 28 dicembre al cinema per rivedere insieme questa fantastica avventura di Coco. Mira, mira, preparano per stasera. C'è la gara musicale per il Dia de Muertos. Vuoi diventare come il tuo eroe? Allora iscriviti. Ah, la mia famiglia si infurierebbe. Ascolta, se hai troppa paura, beh, allora divertiti a lustrare scarpe. Andiamo. Che cos'è che Dela Cruz diceva sempre? Cogli l'attimo. Mostrami che sai fare, muchacho. Sarò il tuo primo spettatore. Miguel! Abuelita! Che cosa ci fai qui? Lascia in pace mio nipote! Dogna, la prego, mi stava lustrando le scarpe. Conosco i vostri trucchetti, Mariachi. Che ti ha detto? Mi voleva mostrare la sua chitarra. Depravato! Mio nipote è un dolce piccolo angelito che rido sielito. Non ne vuole sapere della tua musica, Mariachi. Quindi stai alla larga da lui. Ciao ragazzi. Se siete affascinati dall'uso della CGI nei film, ho una curiosità perfetta per voi. Sapete qual è il primo film creato totalmente con la CGI, cioè tramite immagini create con computer? Vi do due indizi. È del 1995 ed è stato un enorme successo della Disney Pixar. Toy Story! Servirono più di 800.000 ore di equazioni matematiche e più di una settimana di lavoro per ogni singolo secondo di animazione. Mamma mia! Avete visto Toy Story? Qual è il vostro cartone animato preferito di sempre? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e io vi lascio con questa citazione. Mi sento diversa, ma diversa va benissimo. Che film Pixar è? Ciao, al prossimo video!